Ecco la seconda e ultima magia del DLC4 di Tiny Tina's Wonderlands, la Wicked Gossip. Bella, ne? Cosa fa? Innanzitutto la Wicked Gossip spara una sfera di veleno, sì, sarà sempre velenosa, che va con una traiettoria d'arco e rimbalza. Uno, due, tre, e poi scompare. Rimbalza su qualunque cosa, basta che sia entro tre secondi. Vedete che il danno è qualcosa di assurdo ed è bellissimo. Se andrete a colpire un nemico, la magia andrà a rimbalzare verso due nemici aggiuntivi. Bello lisciare i nemici così. A ricerca, proprio diretto, senza rimbalzare ulteriormente. Molto bene. Se non ci sono nemici vicini quando va a colpire un nemico e dovrebbe rimbalzare su altri, adesso cerco di mostrarvelo, vi accorgerete che andrà quindi a creare una pozza di veleno sotto il nemico. Guardate. E la pozza è quella che prima ha eliminato il nemico che correva verso di me in un istante. Ha un danno altissimo ed è una delle magie migliori che abbiamo nel gioco al momento dal mio punto di vista. Al pari dell'Arkenbolt o della Lazerend, sinceramente. Se la vorrete tenere però, ci sarà un problema. Eh sì, come al solito, sarà un war drop. In questo caso del DLC4. 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 In questo caso del DLC4.